Condivido la cosa autogestita, attenzione, io penso che questa non è una proposta ma è un'idea che abbiamo dato perché noi siamo né tecnici né assessori, è un'idea che abbiamo dato all'assessore, penso che questa cosa non deve essere autogestita perché non siamo in grado di autogestire, ma noi vogliamo che il Comune di Napoli ci dia l'autorizzazione per poter fare questa cosa, ma che la devono gestire gli enti pubblici, la devono gestire loro, è un problema loro, la devono gestire loro, noi possiamo darci noi fisicamente e raccogliere questa immondizia, carta, plastica, vetro, alluminio e quant'altro per poterlo portare dei siti, poi devono sapere loro dove la devono portare, quando saranno da finire per vedere questa cosa, ma no che noi autogestiamo dei siti, attenzione, che questo sarebbe un cortello a doppia l'A, quindi per quanto ci riguarda noi vogliamo che il Comune, Provincia e Regione si assumano le responsabilità affinché questa nostra idea la possano sposare, perché è l'unica soluzione secondo noi per poter dare risposta a circa 2.000 o 2.000 famiglie per andare veramente, dare una cosa dignitosa, non un posto, noi cerchiamo un lavoro che sia ben preciso, un lavoro dignitoso dove ogni uno di noi può tornare a casa e stare serenamente con i propri figli, grazie.